Dune colorate. Questo campo di dune si trova sul fondo di un antico cratere nella Noachisterra, uno dei luoghi più antichi di Marte. Quando ci sono le condizioni ideali per la formazione delle dune, ovvero vento costante che soffia da una sola direzione e sabbia a sufficienza, le dune barcan si formano. La parola barcana è un termine russo, usato per la prima volta nella descrizione di questo tipo di duna presente nelle regioni desertiche del Turkestan. Le dune barcana hanno un pendenza dolce sul lato sopravento e un pendio molto ripido sul lato sottovento dove si formano spesso corna o tacche di sabbia. Il vento in questa immagine proviene da sud-ovest, l'osservazione delle dune su Marte è un utile indicatore della forza dei venti, così come della loro direzione. Se le immagini vengono prese a intervalli regolari, si possono osservare i cambiamenti nel tempo, delle dune e delle increspature sulla loro superficie. Il colore della foto non è naturale, è stato alterato per aggiungere un colore in più, quello dell'infrarosso, che i nostri occhi non sono in grado di vedere. La radiazione a raggi infrarossi è usata come indicatore della presenza di alcuni minerali sulla superficie. Su Marte le dune sono spesso di colore scuro perché sono formate dalla comunissima sabbia di roccia basaltica di origine vulcanica. In un ambiente secco, i minerali scuri di basalto, come l'olivina e il pirosseno, non vengono frantumati molto velocemente come invece accade sulla Terra. Anche se raro, alcune dune di sabbia scura si trovano anche sulla Terra, ad esempio nelle Hawaii, grazie alla presenza di molti vulcani che eruttano rocce basaltiche.